Con 343 voti a favore e 216 contrari e 78 astenuti, l'Europarlamento ha approvato la direttiva che imporrà entro il 2033 la riqualificazione energetica degli edifici civili costruiti in Europa. E sarà Dolori. A tra poco dopo la sigla. Cari amici di Cini Lontani, bentornati alla nuova puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Velina. Come detto in apertura, l'Europarlamento ha approvato la direttiva che obbliga a partire dal 2030 e soprattutto dopo al 2035 a portare tutte le classi di mobili di struttura inferiore alla D, al nuovo standard energetico. E qua ballano circa 5 milioni di unità immobiliari nella sola Italia. Se andiamo a considerare che con i quasi 120 miliardi di spesa prenotata, 78 già quelli effettivamente spesi, l'Italia col super bonus ha riqualificato 384 mila 958 unità immobiliari alla fine di gennaio 2023, si capisce qual è lo sforzo immane che il Stato e soprattutto i proprietari di case, soprattutto più vecchie, devono affrontare in Italia. È ovvio che questa direttiva dovrà passare a ulteriori processi di approvazione. Pensiamo semplicemente all'approvazione da parte del Consiglio europeo e poi dal trilogo tra la co-decisione tra Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio europeo, laddove il peso degli Stati è fondamentale per poter approvare definitivamente un provvedimento. E già abbiamo avuto un esempio nel campo delle automobili elettriche dove l'Italia, la Germania, parte la Francia, Polonia, Ungheria e Romania si sono opposti con il risultato che l'Unione europea e soprattutto la Commissione ha dovuto ritirare il provvedimento di obbligare la messa a bando di motori termici a partire dal 2035. E probabilmente la stessa identica cosa accadrà anche nel campo degli immobili, visto che lo Stato italiano e in particolare il governo italiano ha già detto che una norma di questo genere qua non fa gli interessi né nell'ambiente né dei cittadini. Il problema appunto è quello di operare una colossale riqualificazione energetica di un settore che è responsabile di circa il 40% dei consumi energetici fossili e soprattutto delle relative emissioni. Però anche qua c'è sempre di mezzo un medium per poter fare le riqualificazioni perché imporre entro il 2030 e soprattutto entro il 2033 4 passaggi praticamente di classe è un'opera estremamente colossale e soprattutto in questo frangente mancano i soldi fondamentali per farli perché non si può obbligare sicuramente i proprietari degli immobili a investire circa 30 mila Euro secondo le stime di Confedilizia ad unità immobiliare per la riqualificazione energetica. Ma poi anche l'obbligo di riqualificare energeticamente un edificio soprattutto quando non è abitato personalmente prima della compravendita o della locazione anche qua è un onere affatto non trascurabile. Certo si potrà dire che sono esenti tutte le case più vecchie quelle sottoposte a vincolo architettonico e urbanistico le unità immobiliari abitate per meno di 4 mesi all'anno in particolare le seconde case o le unità abitative di superficie inferiore ai 50 metri quadrati che è veramente un appartamentino molto molto piccolo che dal punto di vista di strutture autonome grandi 50 metri quadrati sono forse le baite di montagna che si potranno fuggire da questi vincoli. Potranno forse essere esenti gli edifici delle case popolari nell'ambito del 15% di edifici che possono essere esentati a piacimento dello Stato. Però da qua a operare una riqualificazione straordinaria di tutti gli mobili per arrivare entro il 2050 alle emissioni zero da parte del comparto ce ne corre ovviamente. Come se ne può uscire da questo punto di vista? Politicamente si potrebbe aspettare il 2024 quando decadrà l'attuale Parlamento europeo molto spostato a sinistra e soprattutto molto impregnato di una demagogia ambientalista che è bene o male una specie di boomerang anche per lo stesso ambiente perché certi provvedimenti che vengono attuati vanno a finire solamente con lo spostare se non addirittura inquinare aumentare la dose di inquinamento. Pensiamo semplicemente a quello che sta accadendo con il progetto della elettrificazione spinta della mobilità ma nel campo delle decisioni politiche probabilmente il nuovo Parlamento che dovrebbe uscire dalle elezioni della primavera del prossimo anno probabilmente potrebbe essere spostato su livelli un po' meno demagogici, un po' meno ambientalisti, un po' più aperto a quello che è una realtà concreta. Ovviamente intendiamoci, nessuno dice che bisogna inquinare, che limitazioni delle emissioni vanno fatte sicuramente ma come in tutte le cose ci sono modi e modi per poter raggiungere un certo risultato anche in considerazione del fatto che l'Unione Europea a livello globale è responsabile solamente dell'8% delle emissioni globali e partire con un precetto di essere, di voler essere la prima della classe mentre gli altri continueranno ad aumentare le proprie emissioni e soprattutto a vendere all'Unione Europea in regime di dumping tante strutture, tanti ritrovati che servono appunto per abbattere l'inquinamento, forse non è proprio la soluzione ideale. Forse come schiacciassassi sarebbe opportuno che il Parlamento Europeo ma stesse soprattutto la Commissione Europea tornasse un po' sui propri passi, avesse un po' un rinservimento di questo talebanesimo ambientalista e aprisse veramente a un limite, a un processo di riqualificazione imponendo dei limiti temporali che siano semplicemente attuabili perché non si può entro dieci anni ristrutturare qualcosa come 5 milioni di unità abitative quando bene o male nei tre anni precedenti ne abbiamo ristrutturate con il super bonus poco più di 350 mila, non ci stanno dentro nei numeri ma soprattutto non ci si sta dentro nei fondi perché se abbiamo speso 120 miliardi per riqualificare poco più di 350 mila abitazioni figuriamoci quante ne dovremmo spendere e poi chi paga? Perché tanti proprietari di casa, soprattutto pensionati, vedove, orfani, quant'altro, non hanno sicuramente i 30 mila Euro per poter riqualificare la propria abitazione e non è sicuramente possibile che lo Stato di sua sponte possa assorbire una simile massa di impegni. Anche qua o c'è l'Europa che mette mano a qualche forma di agevolazione, a qualche forma di contribuzione, magari finanziandola con altre fonti di entrate, però da soli così non se ne va da nessuna parte e puntare a fare queste norme che allarmano i proprietari da un lato ma soprattutto che rischiano di deprimere ulteriormente le quotazioni degli edifici più vecchi che sono poi quelli che sono più appetibili al giorno d'oggi dalle classi meno ambienti perché sono edifici spesso volentieri nelle periferie, sono edifici che sono già degradati di loro e che costano di meno di quelle case che sono già riqualificate e magari sono poste nelle aree urbane centrali e semicentrali. Anche qua c'è questo ambientalismo di facciata dell'Unione Europea di una certa politica di centro-sinistra perché ricordiamoci che il Parlamento Europeo si è di fatto spaccato a metà tra un centro-sinistra favorevole all'adozione della norma e in Italia gli eurodiputati italiani, tutti quelli del centro-sinistra hanno votato a favore mentre quelli dell'area governativa di centro-restra hanno votato contro. Vanno a finire di fare un danno proprio a quelle classi sociali di cui loro un giorno sì e l'altro pure si piccano di voler difendere, però come vai a difenderli? Sua mente a parole e poi dopodiché nei fatti li vai ad ammazzare, soprattutto con gli tiri i mattoni addosso, sarebbe bello saperli. Cari amici vicini e lontani, questa puntata dello schiacciassi termina qua, prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza di andare avanti con questa voce libera, autorevole, indipendente e soprattutto fuori dal colo. Da parte di Stefano Veneno un saluto e arrivederci alla prossima puntata, ciao! Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori